Abbiamo detto negli incontri precedenti che prendendo spunto dal numero 164 dell'Evangelii Gaudium stiamo approfondendo il tema del Kerigwa e dell'annuncio e dopo un primo incontro, un'introduzione generale con Don Davide abbiamo iniziato ad approfondire il Kerigwa in Dio Padre, abbiamo poi visto il Kerigwa in Gesù Cristo Signore e questa sera approfondiremo il Kerigwa dello Spirito effuso. Ecco giusto per fare memoria se ricordate stiamo approfondendo come se avessimo fatto una zoomata su quell'espressione che utilizza Papa Francesco nel numero 164 nella quale dice il Kerigwa è trinitario, è il fuoco dello Spirito che si dona sotto forme di lingue e che ci fa credere in Gesù Cristo che con la sua morte e risurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del Padre. E allora dopo aver visto il Kerigwa in Dio Padre, il Kerigwa di Gesù Signore, questa sera approfondiamo il Kerigwa dello Spirito effuso. Come è nostra abitudine, iniziamo con la preghiera, ecco vediamo in sovraimpressione il Salmo e Teresa lo leggerà ad alta voce per tutti quanti noi e noi partecipiamo con la preghiera silenziosa. Buon incontro. Forse Rosaria vuoi leggere tu il Salmo? Allora leggere, sono Rosaria. Sei stato buono Signore con la tua terra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe, hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato, hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ritornate a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo svegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione, riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra, e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene, e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Possiamo disattivare il video noi altri premendo interrompi video. Allora, l'incontro di oggi sarà sul Kerigma dello Spirito Santo, è il quarto incontro. Scusate, va bene. Perché, riprendo una cosa introduttiva, perché è importante il Kerigma nella nostra salvezza, no? E c'è tanta importanza, data l'annuncio del Kerigma, un primo annuncio che è primo di importanza, non cronologicamente. Con la salvezza ci viene... è un'opera di Dio. È l'opera che ha compiuto in Cristo, che culmina proprio nel dono dello Spirito Santo. E tutta la storia di salvezza, tutta la storia del mondo, fa parte di quest'opera di Dio. Eppure, ehm, questa salvezza va accolta dall'uomo, va accolta liberamente, nella fede. Ecco, il Kerigma ha questa funzione di, ehm, permettere all'uomo di accogliere l'opera di Dio nella fede, nella libertà. Quest'opera di amore del Signore. E' una salvezza che non è automatica, no? Noi siamo già salvi da... Cristo ci ha salvati, ha salvato tutti gli uomini, ma ognuno lo deve accogliere nella fede. E per questo annunciamo, ed è importante annunciare la buona notizia agli uomini. Abbiamo parlato qui del Kerigma del Padre, del Figlio, Gesù Cristo, che è un po' quel centro del Kerigma. Ecco, la Chiesa delle Origini ha annunciato Cristo, ha annunciato la vita eterna in Cristo Gesù e in blu era, è racchiusa anche la rivelazione del Padre, no? Ma oggi veniamo a parlare di, eh, del Kerigma dello Spirito Santo inseparabile dal Kerigma del, del Padre e del Figlio. Come è inseparabile il loro essere, come sono inseparabili queste persone divine e il loro agire. In brevissimo, diciamo, in due parole, possiamo dire che il Kerigma dello Spirito Santo è l'annuncio dell'amore di Dio che ci è donato e che ci rende partecipi della vita di Dio. Ecco, liberandoci, da una parte liberandoci dal peccato e dall'altra, ecco, portando a compimento, a pienezza, tutti i disegni, i benevoli disegni del Padre, ecco, che ci configurano a Cristo Gesù. Ecco, però adesso vogliamo approfondire. Vorrei introdurre così, ehm, di Gesù la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse dice che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, ecco, lo diciamo anche nel solenne inizio della veglia pasquale. Ecco, potremmo dire, ecco, non è proprio una cosa liturgica, però, ehm, poco, che se Gesù è il primo e l'ultimo, lo Spirito Santo è l'ultimo e primo, è ultimo e primo. Nel senso che ultimo in Dio, ehm, primo, ecco, per noi. Allora, cerchiamo di entrare in questo, eh, in questo tema. Ecco, iniziamo da lo Spirito Santo come ultimo. Questa frase quindi doveva apparire più avanti, però, pazienza. Ecco, ultimo, primo senso nella, nella Santissima Trinità è la terza persona, ehm, vi è un ordine nelle persone della Santissima Trinità. Ecco, il Padre è la fonte, l'origine di, di, della divinità. Ecco, da Lui viene la vita divina del Figlio, che è eternamente generato dal Padre. E se è abbastanza chiaro a noi, no, che il Figlio che è generato ha una, eh, è ontologicamente, non cronologicamente, posteriore al Padre, cioè, è dipendente dal Padre nel suo essere, ma c'è un ordine, non è subordinato, come avrebbero detto gli ariani, negando la, la piena divinità del Figlio, non è subordinato. Ma vi è un ordine in Dio. E se il Padre è il principio, Figlio è il secondo, lo Spirito Santo in quest'ordine è il terzo. Ecco, ehm, in che senso diciamo che è il terzo, no? Che il Figlio sia secondo rispetto al Padre è più chiaro, perché procede, è generato dal Padre. In che senso lo Spirito è terzo? Noi diciamo, nel credo, procede dal Padre e dal Figlio. Ecco, nella, ne parleremo un po' più avanti, nella versione originaria del credo niceno costantinopolitano, si diceva che il, che lo Spirito procede dal Padre e poi la Chiesa Latina ha aggiunto, è dal Figlio. E quindi anche rispetto al Figlio, cioè, il Figlio e lo Spirito non sono parallelamente discendenti dal Padre, senza alcun ordine tra loro. No, tra il Figlio e lo Spirito, il Figlio ha una certa precedenza. Il, e la, lo Spirito Santo è terza persona della Santissima Trinità. Andremo a spiegare per questo, più avanti. Ehm, l'evento più chiaro da cui conosciamo questa dipendenza dello Spirito dal Figlio è nell'economia nella quale il Dio ha mandato il suo Figlio e lo Spirito Santo e la missione dello Spirito, congiunta a quella del Figlio, ne è però dipendente. Quella cosa che dovremmo approfondire. Finché non è compiuta la missione del Figlio, non può essere inviato lo Spirito Santo. Quindi c'è una dipendenza dello Spirito dal Figlio. Questa è la ragione principale, insieme a tante altre, da cui conosciamo che in Dio, nella Santissima Trinità, anche il Figlio, lo Spirito Santo, nella vita divina, è la terza persona della Santissima Trinità. Non cronologicamente, non in senso subordinato, ma nell'ordine della vita divina. È terzo da tutta l'eternità. Uguale al Padre e al Figlio per dignità e indivinità, ma terzo nell'ordine. E anche nella rivelazione delle persone della Santissima Trinità vi è un certo ordine e per ultimo vi è una chiarezza dell'ordine dello Spirito. Dice il Catechismo proprio così, è l'ultimo nella rivelazione delle persone della Santissima Trinità. Questa affermazione viene spiegata da una citazione di San Gregorio Nazianzeno, che ora leggiamo. Non so se Teresa o Rosaria volete leggere la sua Rosaria. L'Antico Dattamento Proclama chiaramente il Padre, più oscuratamente il Figlio. Il Nuovo ha manifestato il Figlio, ha fatto intravedere la divinità dello Spirito. Ora lo Spirito ha diritto di cittadinanza in mezzo a noi e ci accorda una visione più chiara di se stesso. Infatti, non era prudente, quando si professava ancora la divinità del Padre, Proclamare apertamente il Figlio e, quando non era ancora ammessa la divinità del Figlio, aggiungere lo Spirito Santo come un fardello supplementare, per usare un'espressione un po' arnita. Solo attraverso un cammino di avanzamento e di progresso, di gloria in gloria, la luce della Trinità spolgorerà in più brillante trasparenza. Ecco, qui San Gregorio Nazianzeno ci parla proprio di una condiscendenza divina verso gli uomini nella rivelazione della Trinità. Quindi rivela prima l'unicità di Dio nell'Antico Testamento, poi il Figlio nel Nuovo risplendente, e si intravede la divinità dello Spirito. Nello sviluppo del dogma, anche qui, lo Spirito Santo è ultimo nell'essere approfondito come persona divina. Gregorio Nazianzeno, da cui abbiamo quella citazione, è proprio uno dei protagonisti di questa ultima tappa dell'approfondimento della fede ecclesiale nella Santissima Trinità. Sappiamo che i primi concili definirono contro l'arianesimo, che negava la piena divinità del figlio, lo ritenevano in divinità inferiore, subordinata al padre, ecco, contro l'arianesimo proclamano che la piena divinità del figlio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, ecco, consostanziale al padre. I primi concili affermano questa divinità. Fu solo più tardi, questo a Nicea, a Costantinopoli 1, nel 381, fu aggiunta la piena divinità dello Spirito Santo contro coloro che la negavano. Uno di questi era un certo Macedonio di Costantinopoli, un patriarca di Costantinopoli, poi deposto da questo ruolo. I padri Cappadoci, tra cui Gregorio Nazianzeno, ecco, furono grandi protagonisti di questa proclamazione. Quindi è maturata la professione di fede. Interessante che se è vero che fin dai Vangeli abbiamo una professione di fede battesimale triadica, sulla base della missione di annunciare il Vangelo e di battezzare nel nome del Padre e del Fio e dello Spirito Santo, che troviamo in Matteo 28, ecco, questo lo abbiamo dall'inizio. Eppure, nei primi secoli, non era straordinario avere anche delle professioni di fede diadiche, cioè che parlavano solo di Dio e del Figlio, omettendo di parlare dello Spirito Santo. Ecco, il testo chiave per tali professioni di fede è il versetto della prima lettera ai Corinzi, 8-6, che contro il politeismo dei pagani e contro il semplice monoteismo del popolo giudaico, afferma, ma per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi siamo per mezzo di Lui. Ecco, vedremo in tante professioni di fede dei primi secoli che riappare, si vede sullo sfondo questa professione diadica che non ha bisogno di professare la divinità dello Spirito Santo, non è, non appare tutta la sua importanza dall'inizio, sebbene, all'inizio, come abbiamo detto, nel battesimo, nella fede battesimale, ecco, si va a sviluppare anche la forma triadica della professione di fede. Ecco, però, è giusto per farvi vedere che anche nel dogma, anche nella scrittura, ecco, si arriva pian piano, diceva Gregorio Nazianzeno, nel Nuovo Testamento si intravede la divinità, non è così esplicita come lo è invece la divinità del figlio. Quindi, eh, questo è lo Spirito Santo come ultimo in questo senso, secondo queste affermazioni qui elencate. Adesso passiamo a considerare lo Spirito Santo come primo e, ehm, prendiamo come punto di partenza eh, intanto mi è saltata una, una citazione, volevo, eh, proiettare la citazione guida, ecco, di Gaudium, Evangelii Gaudium 164 che ha citato e letto poc'anzi suor Rosaria che dice il Kerigme Trinitario, dice Papa Francesco, è il fuoco dello Spirito, quindi inizia dallo Spirito, che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo. Quindi, Spirito ci fa credere in Cristo, che con la sua morte e risurrezione ci rivela e ci comunica all'infinita misericordia del Padre. Ecco che in questo testo chiave della, del Kerigme Trinitario che formula Papa Francesco, l'ordine è Spirito Santo che ci porta al Figlio, che ci porta al Padre. Ecco, questo ordine invertito, ecco, è un ordine che troviamo nella tradizione più antica. vi leggo in particolare dei testi di Santi Reneo di Lione che ci, che presentano questo stesso ruolo dello Spirito che va avanti, anche, anche i Cappadoci usano questa espressione, lo Spirito che va avanti. Dice Reneo, Il Battesimo ci consente di rinascere a Dio Padre tramite il suo Figlio e nello Spirito Santo. Ma vedete, Dio Padre, la mediazione del Figlio e nello Spirito. Sono delle preposizioni che troveremo, ecco, varie volte. Perciò, coloro che hanno lo Spirito di Dio sono condotti al Verbo, cioè al Figlio, che li accoglie e li presenta al Padre. e il Padre dona loro la incorruttibilità. Senza lo Spirito Santo non si può vedere il Verbo di Dio e senza il Figlio nessuno può accostarsi al Padre perché il Figlio è la conoscenza del Padre e la conoscenza del Figlio avviene tramite lo Spirito Santo. Quindi vedete che in tutto questo blocco si parla della precedenza dello Spirito per noi. Eppure, conclude, ma il Figlio secondo la benevolenza del Padre quindi è il Padre che muove tutto il Figlio dispensa come ministro lo Spirito a chi vuole e come il Padre vuole. Cioè che comunque in Dio l'ordine è il Padre che con la sua benevolenza comanda il Figlio e il Figlio dispensa lo Spirito. In Dio questo è l'ordine ma per noi lo Spirito ci porta ci dà accesso al Figlio al Verbo che ci porta al Padre. Ecco quindi queste frasi centrali lo Spirito Santo come primo per noi. Un'altra citazione di Ireneo. Ecco, Ireneo è famosissimo per l'espressione per quella formula la gloria di Dio è l'uomo vivente. Ecco, questa citazione continua dicendo e la vita dell'uomo è la visione di Dio. E cosa dice della visione di Dio in un altro brano? Dice quindi questa visione di Dio che è la vita dell'uomo. L'uomo non può vedere Dio da sé ma egli di sua volontà si farà vedere dagli uomini che vuole, quando vuole e come vuole. cioè Dio è visibile perché si rivela a noi. Dio è potente in tutte le cose. Fu visto allora e sta parlando del tempo dell'Antico Testamento profeticamente mediante lo Spirito Santo. Ecco, il credo dice che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Quindi nell'Antico Testamento Dio nella mediante lo Spirito è visto profeticamente. Fu visto poi adottivamente mediante il Figlio e lo sarà poi anche nel Regno dei Cieli paternamente perché lo Spirito prepara in precedenza l'uomo per il Figlio di Dio il Figlio lo conduce al Padre e il Padre gli dà la incorruttibilità per la vita eterna che tocca a ciascuno per il fatto di vedere Dio. Ecco, allora ci parla di una progressione in tutta la storia di salvezza nella visione di Dio profetica per mezzo dello Spirito nell'Antico Testamento filiale adottiva nel Nuovo Testamento con il Figlio nel Regno dei Cieli una visione paterna paternamente vedremo Dio paternaliter dice nella traduzione latina del testo di Lativa di di Reneo. ecco quindi questa progressione figlio spirito che ci porta il figlio che ci porta il padre non solo vale per il singolo ma in questo testo di Reneo straordinariamente applicato a tutta la storia di salvezza. Quindi per sintetizzare questa questa prima analisi introduttiva lo Spirito Santo è ultimo e primo è ultimo nel senso di terzo per quanto riguarda l'ordine in Dio non solo nella Trinità lo Spirito che procede dal padre e dal figlio ma anche nell'agire della Trinità il padre comanda il figlio dispensa lo Spirito e lo Spirito poi agisce quindi c'è un ordine in Dio e nel suo agire per gli uomini invece lo Spirito Santo è primo per quanto riguarda la nostra divinizzazione divinizzazione dice il Catechismo lo Spirito Santo con la sua grazia è il primo nel destare la nostra fede e nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il padre e colui che ha mandato questo è un altro testo di tipo diadico che abbiamo questa è la vita eterna che conoscano te e colui che hai mandato Gesù Cristo ecco qui dice Giovanni 17 3 ecco di nuovo un testo diadico non triadico come siamo più abituati ecco dopo lo sviluppo pieno del documento allora adesso nella presentazione che vorremmo fare vuole approfondire questi due poli il primo polo è lo Spirito Santo che è terzo rispetto al padre e al figlio in Dio e nell'agire e poi dopo aver approfondito questo aspetto approfondiremo il ruolo dello Spirito Santo che agisce per primo nei nostri confronti allora approfondiamo con l'affermazione dello Spirito Santo che procede dal padre e aggiunge la tradizione latina e dal figlio lo diciamo nel credo ecco quello dicendo da Costantinopolitano quello più frequentemente utilizzato anche nella professione di fede domenicale nella messa domenicale solitamente si riserva il credo apostolico più breve di tradizione battesimale di origine legato alla professione di fede battesimale della Chiesa di Roma questo si riserva nei periodi dell'anno dove è enfatizzata proprio la dimensione battesimale nella quaresima e nella Pasqua la preparazione e poi la vita battesimale nella Pasqua quindi dice questo il simbolo dicendo Costantinopolitano procede dal padre e dal figlio ora perché diciamo che ragionevolmente e lecitamente dice la Chiesa perché si può aggiungere che procede anche dal figlio e spiega che procede dal padre e dal figlio come un solo principio allora la Chiesa orientale si è opposta al figlio non so se sapete che ritenne che questo figlio era un'aggiunta illegittima al testo accordato dai concili di Nicea e di Costantinopoli perché vede che il padre è il principio di tutta la divinità e tutta la divinità procede dal padre infatti nel greco c'è un verbo il verbo procedere indica l'origine prima e possiamo essere d'accordo sì che l'origine prima di tutta la divinità non solo del figlio generato dal padre ma anche dal spirito santo è il padre è l'origine prima ma diciamo legittimamente lecitamente ragionevolmente che procede dal padre e dal figlio perché lo spirito santo è il vincolo di amore è l'amore tra il padre e il figlio è il loro è l'unità del loro rapporto e proprio in quanto è l'amore tra il padre e il figlio procede da entrambi come da un solo principio non può procedere solo dal padre perché l'amore tra il padre e il figlio e in quanto amore tra il padre e il figlio c'ha una dipendenza logica dalla esistenza del figlio generato dal padre ecco l'amore tra loro ora è chiaro che non esiste il figlio del padre senza che ci sia l'amore tra il figlio e il padre quindi non c'è una successione cronologica ecco dall'eternità in cui il padre genera il figlio e anche procede anche dal padre e dal figlio come da un solo principio l'amore che riunisce San Tommaso parla di vincolo di amore che ci dice amore e unità l'unità nell'amore tra i due non è un'unità fisica ma un'unità relazionale di amore come il padre è perfettamente padre e il figlio è perfettamente figlio totalmente padre totalmente figlio abbiamo approfondito questo il primo incontro parlando del padre come nome proprio che esprime tutto il suo essere il centro della sua persona è paternità generare il figlio nell'amore ecco così lo spirito santo tra il padre e il figlio è perfettamente li unisce perfettamente ma questa perfezione questo vincolo di amore non deve farci pensare a una realtà statica è piuttosto come il padre non è che il padre ha generato il figlio e adesso lo guarda non so come dire non è che il figlio esiste adesso di fronte al padre indipendente dal padre no il padre eternamente genera il figlio continua a generarlo l'essere del figlio è essere generato dal padre eternamente quindi il padre genera dall'eternità eternamente il figlio è generato dall'eternità e il loro amore quindi non è una realtà statica è una realtà dinamica la loro unione è un'unione dinamica sempre aperta non è non sono chiusi tra loro no? l'altra cosa che può aiutare a comprendere ecco la dinamicità della loro dell'unione del padre del figlio e quindi è lo spirito santo come una forza come lo il vento lo spirito è come il vento che non sai dove viene dove va questo dinamismo infinito di Dio che non è caotico ma è nell'ordine delle persone divine è sempre in movimento è sempre più ecco ci può aiutare a capire questo pensare che se il padre e il figlio sono uno unum sono una cosa sola nell'unità dello spirito santo quest'unità è un'unità però di due che sono infinitamente distinti tra loro l'unità tra il padre e il figlio non li confonde mai se si può e si deve dire che sono perfettamente uguali questo era estremamente enfatizzato contro l'arianesimo da Agostino e dietro d'Agostino da gran parte di tutta la tradizione della chiesa si può anche dire che il padre e il figlio sono distinti uniti nell'amore dello spirito santo che li unisci ma distinti come nessun'altre due realtà sono distinte sono più distinte di qualsiasi altre due realtà adesso non mi vengono in mente esempi e non voglio fare esempi rischiando la blasfemi diciamo paragoni blasfemi ecco ma come è diverso incomunicabile il generare e l'essere generato sono corrispettivi che si oppongono proprio nella loro relazione la paternità e la filiazione sono estremamente distinti e questa è una distinzione che cresce man mano che che il padre continua a generare il figlio a essere generato e così la loro unione è un'unione sempre più grande sempre più dinamica ecco allora questi tre operano in maniera la congiunta eternamente padre figlio e spirito santo che sono un'unica vita divina in questo ordine di vita e operano insieme e a un certo momento in principio della storia di salvezza creano il mondo il padre ha creato il mondo per mezzo del figlio nello spirito santo allora tutto l'operare della trinità è un operare congiunto che significa possiamo dire che tutto ciò che fa Dio è fatto dal padre e dal figlio e dallo spirito santo ma la tradizione ci trasmette anche delle altre preposizioni si può dire che tutto è generato è operato tutto l'operare divino è operato dal padre per mezzo del figlio ecco questa la mediazione è la categoria più forte che troviamo nel Nuovo Testamento applicato al figlio soprattutto l'inno ai Colossesi Colossesi 1 vediamo tutto creato per mezzo di lui in vista di lui anche il testo di prima Corinzi 8 6 che abbiamo visto prima un solo padre dal quale tutte le cose noi siamo per lui quindi da lui e verso di lui tutto è tutta la storia avviene dal padre e va al padre e tutto è per mezzo di lui e noi siamo per mezzo di lui quindi c'è una mediazione in tutto l'essere e in tutta la salvezza tutta l'economia di Dio del figlio la preposizione dia in greco la mediazione Cristio è il mediatore un unico mediatore tra Dio e l'uomo di Cristo Gesù ecco questo è il ruolo del figlio è un ruolo di mediazione la maggiore caratteristica principale il figlio si dice nello spirito santo nello spirito che cosa significa nello spirito allora avendo parlato del figlio dello spirito santo come amore tra il padre e il figlio possiamo adesso arrivare a una prima chiarificazione ecco del kerigma dello spirito santo il kerigma dello spirito santo annuncia in primo luogo che tutta la storia del mondo tutta la realtà è abbracciata dall'amore di Dio noi esistiamo nello spazio dell'amore tra il padre e il figlio è quella distanza che non è separazione proprio perché c'è lo spirito santo in quello spazio tra il padre e il figlio nell'unione dello spirito santo tra il padre e il figlio quello è il luogo di tutta la realtà di tutta la storia nello spirito santo quindi questo è il primo annuncio che tutto è nell'amore di Dio in questo dinamismo dell'amore di Dio allora possiamo andare avanti ecco adesso riflettiamo sul dono dello spirito allora se già nello spirito come amore tra il padre e il figlio tutto esiste questo spirito santo a un certo momento è stato donato la persona dello spirito entra nella storia è inviato mandato dal padre nei nostri cuori ecco come avviene questo allora possiamo dire che riconoscere nella rivelazione del nuovo testamento sulla base di tanti testi molti menzionati nell'ultimo incontro che vi è un collegamento tra l'invio dello spirito e la missione del figlio Giovanni 7 dice non c'era ancora lo spirito perché il figlio dell'uomo non era ancora stato glorificato quando è che lo spirito santo può essere inviato nel mondo proprio quando l'amore tra il padre e il figlio che è lo spirito santo lo spirito è questo amore questa relazione di amore che unisce il padre e il figlio quando questa relazione si compie nel mondo e questo avviene con il compiersi della vita di Gesù tutta la storia di Gesù impone nel mondo nella storia l'amore tra il padre e il figlio il padre e il figlio si amano eternamente come dal momento che il verbo si è fatto carne questo amore eterno viene vissuto dal verbo incarnato il verbo nella storia e tutta la storia del figlio incarnato è la traduzione diciamo così nella storia dell'amore eterno e la trasposizione la incarnazione dell'amore eterno del padre nella storia dell'amore tra il padre e il figlio entra nella storia e quando è che questa storicizzazione dell'amore tra il padre e il figlio giunge a suo compimento col mistero pasquale e allora quando si compie il mistero pasquale compiendosi la trasposizione non è un buon termine la trasposizione storica dell'amore eterno allora l'amore tra il padre e il figlio che eternamente anche esso può entrare nella storia non so se si capisce questo collegamento quindi non è non è casuale è tutto nell'ordine dell'economia di Dio e allora nella scrittura troviamo tre momenti in cui lo spirito è donato dal figlio questi tre momenti possono corrispondere a diverse teologie Giovanni l'evangelista Giovanni lo fa coincidere con la Pasqua fin dalla croce Luca lo pone come un evento lo collega esclusivamente diciamo così alla Pentecoste in qualche modo possiamo anche mettere in un quadro d'insieme ecco queste prospettive non è che bisogna sempre far tornare tutti i conti così a volte bisogna semplicemente accettare diverse prospettive nei Vangeli ogni evangelista ha la sua prospettiva ogni autore sacro ha la sua prospettiva e perché non si riesce mai a rinchiudere in sistema la la rivelazione di Dio perché Dio non è rinchiudibile nel sistema Dio è sempre di più ecco le diverse prospettive aiutano proprio ad esprimere Dio nella loro molteplicità mi viene in mente quella parola del Salmo una parola ha detto Dio due neudite cioè l'unica parola di Dio per noi viene due parole una molteplicità perché non è possibile racchiudere la semplicità di Dio nella nostra nell'espressione nel mondo però detto questo possiamo però trovare un certo ordine secondo gradi di glorificazione ecco Gesù dice padre glorificami con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse e viene una voce l'ho glorificato e anche glorifica il tuo padre glorifica il tuo nome la voce dal cielo l'ho glorificato ancora lo glorificherò ecco questi sono i due brani che vi ho citato qui Giovanni 12 28 Giovanni 17 5 ecco c'è un la glorificazione di Gesù è quel compimento del portare a termine la sua economia sulla terra la sua storia sulla terra che permette al figlio incarnato di ricevere la gloria che aveva eternamente quella gloria passa al figlio incarnato la pienezza eterna passa al figlio incarnato attraverso il compimento della sua storia e questo compimento c'ha come dei gradi che nel Vangelo di Giovanni possiamo identificare con tre passi la croce la risurrezione e l'ascensione e a questi tre gradi corrispondono doni dello spirito santo quando Gesù muore in croce le ultime parole sono tutto è compiuto e chi nato il capo consegnò lo spirito ecco compie la sua portando a compimento l'obbedienza al padre nello spirito santo obbediente fino alla morte la morte di croce è compiuto tutto quello che aveva fatto la libertà umana di Gesù nel momento della croce arrivato alla morte è compiuta ha obbedito fino alla morte allora questo compimento che Giovanni vede già come gloria già come glorificazione l'elevazione quando quando innalzerete il figlio dell'uomo avete elevato il figlio dell'uomo saprete che io sono come Mosè innalzò il serpente nel deserto così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo quindi già la croce l'innalzamento della croce per Giovanni è la gloria perché lì si compie l'obbedienza si compie l'esistenza umana di Gesù obbediente al padre fino alla morte e allora consegna può dare lo spirito già consegna lo spirito ecco lo consegna nelle nelle mani del padre non nelle tue mani consegna il mio spirito ma in fondo già da questo lo dono inizia il dono dello spirito che è liberato per l'umanità per entrare nel mondo sempre nel Vangelo di Giovanni seconda tappa è la risurrezione Gesù risorto appare la sera della Pasqua entra a porte chiuse ai discepoli e gli annuncia pace a voi vi leggo il testo non l'ho non l'ho trascritto interamente comunque appare pace a voi ecco guardarono i discepoli si rallegrarono a vedere il signore gli mostra le piaghe gloriose le mani il costato si rallegrano al vedere del signore poi ripete pace a voi e dice ricevete lo spirito santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e quindi Cristo risorto la glorificazione della sua risurrezione gli permette di donare lo spirito di dare lo spirito ai discepoli soffia su di loro e la terza il terzo dono dello spirito è quello che è sprigionato dalla elevazione del figlio risorto nella gloria che sale nella gloria del padre c'è allusione a questo in vari brani del Vangelo di Giovanni dove dice per esempio dove dice se non me ne vado non verrà a voi il paraclito se invece me ne vado lo manderò a voi cioè è necessario che vada non solo che muoia ma che vada al padre che passi da questo mondo al padre è necessario questo perché possa inviare il paraclito ecco e questo è invece molto chiaro questa prospettiva è quella principale nel Vangelo di Luca ecco e poi negli atti degli apostoli sempre nello stesso evangelista Luca che narra la Pentecoste frutto di Cristo che sale al cielo ecco dopo 40 giorni da risorto che appare ai discepoli dopo 40 giorni entra nella gloria del padre e da lì manda lo spirito ecco sempre in rapporto a questo invio dello Spirito Santo dal padre e dal figlio cioè in rapporto all'economia del padre e del figlio vorrei anche menzionarli per chi non li conosce i testi del paraclito forse qualcuno ne ha già sentito parlare ci sono cinque menzioni del paraclito una è nella lettera di Giovanni altre quattro sono nei discorsi di addio che Gesù fa prima della della sua passione morte ecco nell'ultima cena dopo la lavanda dei piedi narrata da Giovanni Giovanni XIII e che cosa vediamo in questi testi che c'è come un passato una progressione Gesù parla del paraclito a prima menzione dice che il padre vi darà cioè il padre lo dà poi la seconda menzione dice parla del paraclito lo spirito santo che il padre manderà ma lo manderà nel mio nome dice Gesù quindi si proviene dal padre principalmente ma il padre non lo manda indipendentemente dal figlio lo manda nel nome del figlio terzo terza menzione verrà il paraclito che io vi manderò dice Gesù dal padre quindi viene dal padre ma adesso lo manda il figlio ok che lo manda viene perché lo manda il figlio e infine verrà il paraclito e dice lo manderò a voi ecco di nuovo e questa provenienza dal padre invece va taciuta come inizialmente era taciuto il ruolo del figlio ecco quindi vedete questa progressione è mandato dal padre dal figlio e viene lui cioè perché tutte e tre sono coinvolte nella venuta del figlio dello spirito santo nell'invio dello spirito tutte e tre le persone sono coinvolte in un ordine c'è un ordine tra il loro lo dà il padre lo dà dal figlio il figlio lo manda dal padre viene il paraclito mandato dal figlio ecco quindi interessantissimi questi testi per farci vedere proprio lo spirito santo che quest'amore tra il padre e il figlio in cui il mondo è creato e che ci è donato nell'ordine della vita divina seguendo l'ordine della stessa vita di Dio ecco possiamo allora aggiungere riflettendo su questo dono dello spirito se già la creazione riflettendo su Dio che tutto opera per mezzo del figlio nello spirito santo ci diceva che noi esistiamo viviamo nell'amore tra il padre e il figlio possiamo dire un secondo punto il carico dello spirito santo è l'annuncio che in Gesù Cristo si è compiuto nel mondo l'amore di Dio cioè quell'amore tra il padre e il figlio adesso è nel mondo nella storia di Gesù si è compiuto quell'amore tra il padre e il figlio nel mondo e per questo si può mandare lo spirito e che questo compimento dell'amore ci è donato nello spirito santo se accolto compie anche in noi l'amore del padre e del figlio e quello farà conformandoci al figlio donandoci di partecipare alla figliolanza lo spirito del padre lo spirito del figlio grida in noi Abba padre ecco quindi abbiamo visto questo primo approfondimento era sul lo spirito santo la buona notizia dello spirito santo come proveniente dal padre e dal figlio come amore del padre e del figlio che procede dal padre e dal figlio e ci è donato dal padre e dal figlio dal compimento del loro amore nella storia vediamo adesso passiamo all'altro versante lo spirito santo che va prima cioè l'opera dello spirito santo nei nostri confronti che ci porta al padre per approfondire questo vorrei partire da dal credo apostolico e il credo di Ceno Costantinopolitano questa è proprio una fotocopia del catechismo della chiesa cattolica che mette questi due credi il simbolo degli apostoli il credo di Ceno Costantinopolitano in sinossi in parallelo e qui vi mostro il terzo articolo sullo spirito santo questo articolo nel credo Niceno Costantinopolitano approfondisce la natura divina del figlio dello spirito santo quello di cui abbiamo appena parlato e che procede dal padre e dal figlio e che è pienamente Dio mentre il ruolo dello spirito santo nei confronti della storia di salvezza è approfondito nei in questi altri articoli non sono lì per sbaglio non sono una coda sono l'opera dello spirito santo in noi e possiamo vedere in questi articoli non sempre ci sono stati tutti quelli che sono più importanti nei simboli più antichi ci sono la risurrezione della carne la chiesa premissione dei peccati a volte solo uno o due di questi tre vita eterna viene aggiunta è meno frequente nei più antichi simboli la comunione dei santi anche meno frequente infatti nel parallelo vedete che questi aspetti trovano formulazioni ecco sinonimiche mentre perdone dei peccati risurrezione della carne la chiesa ecco sono sono come delle costanti più importanti e questi queste opere dello spirito santo si possono dividere in due gruppi vi sono delle opere positive che portano a compimento i disegni di dio che ci donano la vita di dio ecco la santità di dio la vita eterna di dio all'interno della chiesa che è corpo di cristo e poi ci sono due opere di liberazione dal male ci libera dal male del peccato ci libera dalla morte con la risurrezione della carne allora approfondiamo questi questi punti iniziando dal versante negativo il primo la prima opera dello spirito il perdono dei peccati nel testo già citato dell'apparizione di gesù ai discepoli il giorno della risurrezione dice ricevete lo spirito santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati l'annuncio dello spirito santo è annuncio del perdono dei peccati di un potere consegnato alla chiesa come frutto della pasqua di gesù ecco allora e qui vorrei fare una piccola parentesi perché anche la volta scorsa non ho approfondito molto quel tema del perdono dei peccati grande opera di gesù cristo che poi c'è donata nello spirito santo che gesù consegna alla chiesa il potere di perdonare i peccati allora che cosa comporta perdonare i peccati per perdonare i peccati non basta dire non li conto più non basta la risurrezione di cristo non è un tana libera tutti a causa del peccato e della morte conseguenza del peccato gesù è dovuto morire e non è solo morto di vecchiaia è morto ucciso una morte cruenta con spargimento di sangue perché questo è importante la morte è l'eredità del peccato per tutti gli uomini la conseguenza del peccato cioè di quella separazione da dio fonte della vita che ci ha presentato don andrea il primo incontro con questo stato che a noi sembra normale ma che non era lo stato pensato da dio lo stato in cui ci ha creato era uno stato di grazia di comunione con lui nello stato di peccato l'uomo va incontro alla morte che è naturale senza la grazia di dio è naturale ma per l'uomo che non è stato creato con una natura pura ma una natura graziata per l'uomo è conseguenza del peccato ecco tutti gli uomini sono soggetti alla morte Gesù entra nella morte che è la sacramentalizzazione della separazione da dio ed entrando nella morte quella morte non è più non è solo la separazione da dio ma diventa e trasformata in luogo dell'unione alla morte di Cristo noi moriamo con Cristo e Cristo nella morte morto per noi ecco il disegno che aveva fatto don Andrea di Cristo morto fa presente proprio questo entrando nella morte raggiunge l'uomo nelle conseguenze del peccato ma non solo Gesù deve morire ucciso cioè non solo è la conseguenza del peccato ma porta in sé il peccato fatto che è rappresentato dal sangue il sangue versato infatti il sangue sparso in remissione dei peccati e dice San Paolo che siamo redenti dal suo sangue che significa questa cosa il primo sangue sparso il sangue di Abele è l'uccisione di un fratello quel sangue grida vendetta il sangue di Cristo che grida misericordia è più eloquente di quello di Abele ma in che senso ci ha redenti questo è un punto importantissimo spero di spiegarlo bene la redenzione è una metafora di tipo commerciale uno redime una cosa pagando un riscatto ecco un primo livello di questa metafora dice che Cristo ha pagato per noi ha pagato il debito di Adam ci ha riscattati con il suo sangue quanto siamo preziosi per Dio valiamo il sangue di Cristo questa metafora che si trova nella rivelazione del Nuovo Testamento non va spinta oltre ciò che si trova perché una delle cose che uno potrebbe dire a chi ha pagato questo ha pagato al padre il padre esige il sangue di Cristo lo ha pagato al demonio che aveva potere sull'uomo allora ha dovuto pagare il demonio ecco già queste domande portano la metafora oltre l'ambito della sua applicazione corretta e ci aiuta in questo la lingua italiana quando noi in italiano diciamo che una persona si è redenta non intendiamo solo che ha pagato la sua pena per esempio un criminale commette un omicidio va in prigione sconta l'ergastolo esce fuori e potrebbe dire ho scontato la mia pena ho pagato quello che dovevo per il male che ho fatto sono redento ma se esce e continua a fare il male è arrabbiato non è noi non lo riteniamo redento se non è cambiato se invece un uomo che ha commesso un crimine forse come un omicidio che non può recuperare il malefatto perché quello è morto non lo può riportare in vita ma Cristo lo porta ma se uno uccide l'altro però può pentirsi e dedicare tutta la sua vita a opere di bene non solo scontare l'ergastolo ma in carcere accettare le sofferenze come qualcosa di meritato cambiare il cuore riconoscere il male e uscire una persona cambiata perdonare gli altri anche negli anni di carcere e dopo fare tutto il bene possibile una persona che è cambiata in conseguenza del malefatto diciamo che si è redenta ecco Gesù ci ha redento cioè ha redento l'umanità prendendo il nostro peccato unendosi a noi nella carne portatrice del peccato nella morte a cui è sottomessa lui ha redento cambiando l'umanità l'umanità peccatrice in lui è stata assunta ed è diventata un'umanità santa la cui santità vince la malvagità se l'uomo peccatore aveva ucciso il fratello Cristo dà la vita dà quel sangue versato da Caino il sangue di Abele versato da Caino Cristo lo versa per i fratelli questa sua opera di giustizia un amore fa sì che l'umanità nel suo insieme diciamo l'umanità si è redenta è giusta in Cristo l'uomo è giusto e nel dono dello spirito quella giustizia di Cristo che è la giustizia dell'uomo dell'umanità assunta da Cristo è importante che sia stato l'uomo in Cristo a obbedire al Padre a dare il sangue a versare il sangue l'uomo in Gesù ha compiuto la giustizia ha compiuto ogni giustizia si è pentito per noi ha combattuto il demonio per noi ha dato la vita per i fratelli il sangue per noi quel sangue più eloguente di quello di Abele per questo il suo sangue ci ha redenti ecco e lo spirito santo comunica a noi la sua giustizia l'uomo che in Gesù è giusto non è più peccatore ma giusto ecco tutti gli uomini possono partecipare di questa giustizia ricevendo lo spirito santo per questo lo spirito donato che ci giustifica è frutto della Pasqua di Gesù della morte cruenta di Gesù che ha vinto la morte e dando il sangue ha vinto il peccato l'ingiustizia del peccato con la giustizia della croce non so se se si è capito perché chiaramente non è una cosa facile però spero che si sia capito questo spirito santo dato alla Chiesa è lo spirito che è vittorio per questo perdona i peccati perché ha vinto radicalmente il peccato e la morte nella sua Pasqua non è un perdono ah beh ti perdono facciamo che non è successo niente no no il male va affrontato va vinto perché dire che non c'è ma c'è non ci sta non serve a nulla va proprio vinto è questo che ha fatto Cristo si vede qualcosa? ok lo spirito santo che Gesù dona non solo perdona i peccati già commessi ma libera dalla schiavitù che il peccato comporta dalla schiavitù del peccato e della morte una schiavitù al demonio abbiamo ci sono due versetti la legge dello spirito che da vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne vado un po' più veloce perché vedo che faccio tardi il carigma dello spirito santo è quindi l'annuncio non solo che sono perdonati i peccati ma che sei libero dalla legge del peccato ed entri nella libertà dei figli di Dio e così anche passiamo a un altro articolo non solo ci libera dal peccato ma dalla morte frutto del peccato con la sua risurrezione ecco per essere veloci perché chiaramente ognuno di questi temi si potrebbe approfondire moltissimo però se lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi quindi il carigma dello spirito annunciare lo spirito santo è l'annuncio della risurrezione di cui quello spirito è già primizia questo capitolo della lettera ai Romani più avanti dice che tutta la creazione geme e soffre e anche noi che abbiamo le primizie dello spirito attendiamo la redenzione del corpo che avverrà con la risurrezione quindi lo spirito è già come una caparra della vita risorta poi lo spirito santo è la chiesa ecco ci sarebbe tantissimo qui allora la chiesa è tempio dello spirito un'immagine altre immagini se la chiesa è corpo di Cristo lo spirito ne è l'anima dice Sant'Agostino quello che è il nostro spirito ossia la nostra anima quello che lo spirito ossia la nostra anima è per le nostre membra lo stesso è lo spirito santo per le membra di Cristo per il corpo di Cristo che è la chiesa ecco quindi che quest'unione con Cristo noi abbiamo un'unione fisica con Cristo tramite i sacramenti ma non è solo fisica siamo un corpo solo e un'anima solo un solo spirito e un solo corpo ecco è come l'anima nel corpo così lo spirito ci unisce a Cristo la stessa limpa la stessa vita che è in Cristo è in noi ed è nella chiesa in noi come singoli ma come membri della chiesa e poi questo è un testo bellissimo di Reneo dove associa strettamente chiesa e spirito con tutta la ricchezza che questo comporta è alla chiesa che ha affidato il dono di Dio che è lo spirito santo in essa è stata posta la comunione con Cristo cioè lo spirito santo che ci dà l'unione con lui la parra dell'incorruttibilità la resurrezione di qui sopra confermazione della nostra fede scala per ascendere a Dio infatti dove è la chiesa ivi anche lo spirito di Dio dove lo spirito di Dio ivi è la chiesa e ogni grazia ecco quindi dove c'è lo spirito santo c'è la chiesa con tutte le sue grazie la scrittura ispirata interpretata dallo spirito lo spirito opera nei sacramenti nella liturgia anima la preghiera è maestro di preghiera della chiesa è protagonista della missione elargisce i doni gerarchici e carismatici tutti i doni un solo spirito fonte di comunione e unità cito un testo tra i tantissimi vi sono diversi carismi ma non solo è lo spirito vi sono diversi ministeri ma non solo è il signore diverse attività ma non solo è Dio che opera tutto in tutti a ciascuno è stata data una manifestazione particolare dello spirito per il bene comune quindi lo spirito che è la vita della chiesa e dice il credo apostolico dopo credo la chiesa credo la comunione dei santi tante spiegazioni però una delle affermazioni del catechismo che cosa è la chiesa se non l'assemblea di tutti i santi la come il comunione dei santi è precisamente la chiesa ecco cosa vorrei far notare qui che lo spirito che agisce principalmente nella chiesa fa sì che i singoli nella chiesa abbiano accesso alla santità siano santi ecco apre la strada la nostra santità particolare la vita nello spirito santo quindi c'è il tema delle virtù teologali fede speranza e carità che portano a compimento l'uomo le facoltà dell'uomo di conoscere l'intelletto la volontà il cuore dell'uomo portare a compimento dallo spirito tutto il tema dei doni dello spirito santo i frutti dello spirito santo e quindi per farla breve il kerikma dello spirito santo è l'annuncio dell'amore della gioia della pace della comunione di questi desideri profondi del nostro cuore che sono desideri di santità li compie lo spirito santo annunciare lo spirito e annunciare questa 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 grandezza questa speranza quindi lo spirito santo è la vita eterna vi cito solo questo versetto chi semina nella sua carne della carne raccoglierà corruzione chi semina nello spirito dallo spirito raccoglierà vita eterna ecco sono come San Paolo presenta carne e spirito come due principi di vita se senza Dio tutto tende alla morte con lo spirito santo ecco è ristabilita quell'inserimento in Dio che porta alla vita eterna che è la vita di Dio stesso qui abbiamo accesso nella chiesa già nella chiesa partecipiamo a questa vita è il nostro dire si entrare nella vita dove passeremo definitivamente con la nostra Pasqua finale la nostra morte sarà l'entrata della vita eterna già iniziata qui nella chiesa si entra nella definitività di questa vita eternità nel senso di definitività con la morte e l'ultimo brano che vi leggo è questo straordinario brano di prima lettera ai Corinzi 15 testo sulla risurrezione che è anche testo sul compimento dei disegni di Dio dell'uomo creato a immagine di Dio ecco Adamo è la immagine di Cristo e Cristo porta Cristo risorto porta a compimento i disegni che Dio aveva nel plasmare Adamo dice così così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione risorge nell'incorruttibilità seminato nella misera risorge nella gloria seminato nella debolezza risorge nella potenza è seminato un corpo animale qui dice psichicon cioè che ha la psiche ha l'anima animale ecco questa è la radice che è importante qua e risorge un corpo spirituale l'animale l'anima diventa spirito se c'è un corpo animale c'è anche un corpo spirituale sta scritto infatti il primo uomo Adamo divenne un essere vivente qui c'è l'anima ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita che cosa c'è dietro a questo allora vi faccio che ore sono non so ho ancora due minuti o finisco cinque minuti giusto per spiegare questa cosa dello spirito e l'anima che si collega al tema dello spirito santo per noi sembrano un po' sinonimi spirito e anima e poi parlare di corpo spirituale ci sembra uno simolo sembra una contraddizione o è corpo o è spirito no San Paolo contrappone carne e spirito come si può parlare di un corpo spirituale allora per farla molto breve l'anima è definita secondo la natura dal riferimento è la vita del corpo lo spirito è un'altra cosa Dio è spirito Dio ehm la spiritualità è quel è quella dimensione dell'essere propria delle relazioni divine e del nostro del nostra partecipazione delle relazioni della Santissima Trinità la vita della Santissima Trinità Dio è spirito non solo lo spirito santo di Dio è spirito affermato di tutta la Trinità cioè questa relazione di vita è lo spirito questo è spirito per cui quando diciamo che l'anima è spirituale diciamo che l'anima è fatta per la relazione con Dio ora questa relazione con Dio tutti gli uomini la hanno come vocazione e in questo senso l'anima di ogni uomo è spirituale perché è fatta per Dio ma questa relazione con Dio il peccato la rompe la interrompe viene realizzata la relazione con Dio dalla grazia dal dono dello spirito santo che ci partecipa alla relazione tra il figlio e il padre perché è questa relazione per cui noi siamo creati a immagine del figlio per avere questa relazione col padre questa è la nostra spiritualità e allora Adamo l'ultimo Adamo Cristo risorto diventa corpo spirituale che dà vita da spirito da relazione con il padre il corpo di Cristo è tutta relazione col padre e che fonte di questa relazione col padre che fonte di spirito santo datore in questo senso lo dice San Paolo è spirito datore di vita che dà la vita ecco allora quindi il kerigma dello spirito santo è in questo senso kerigma dell'annuncio della vita di Dio in noi del compimento di questi disegni di Dio che ci ha creati è immagine e somiglianza si possono associare ci sono tanti modi di analizzare immagine e somiglianza lungo la tradizione tante vie sono state seguite però in un certo senso c'è una convergenza tra loro e potremmo dire che l'immagine è immagine del figlio nella dinamicità la vita cristiana che cresce che c'è data dallo spirito santo che ho che realizza in noi la figlianza dinamicamente lo spirito santo realizza in noi la divinizzazione filiale l'essere figli nel figlio e così concludiamo con questo stesso di Gaudium et Spes per Cristo in Cristo diceva l'enigma quell'enigma del dolore della morte che al di fuori del suo Vangelo ci opprime con la sua morte egli ha distrutto la morte con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita perché anche noi diventando figli col figlio possiamo progare esclamando nello spirito Abba Padre ok e ho finito qui incontro scusate la lunghezza caro Andrea che facciamo è troppo tardi per le domande poi non vedo tante domande no siamo assolutamente in tempo per le domande si può rivedere la penultima slide andiamo indietro quindi se diciamo che dicevo che ci sono come due poli di questo Kerigma dello Spirito Santo uno è che ci libera dal peccato e dalla morte perché ci comunica la vittoria di Cristo che ho descritto una vittoria che radicalmente vince il male il peccato la morte il demonio che ha potere sul ebrei 2 che tutti siamo schiavi del demonio che ha potere sulla morte conseguenza del peccato è come un trittico e questo trittico peccato morte demonio si relaziona sono le tre dimensioni dell'uomo il peccato e la libertà dell'uomo l'anima il rapporto col demonio interrompe la relazione con Dio la dimensione spirituale la morte riguarda il corpo come sono unite queste relazioni in noi così sono uniti i tre nemici sono collegati tra loro quindi c'è quell'aspetto e poi c'è l'aspetto del compimento dei disegni di bene questo è indipendente dal peccato con cui Dio ci ha creati con questo in mente per ricevere nello Spirito Santo la fiolanza divina se posso volevo chiederti se puoi dire una parola sul diciamo dal punto di vista della catechesi tenendo presente che parliamo fra catechisti e ci interessa poi di questa formazione che stiamo facendo anche la ricaduta catechetica anche se non ne parliamo poi concretamente però ci interessa allora una domanda diciamo un po' un po' critica da questo punto di vista cioè perché lo Spirito Santo è un grande assente della catechesi oppure è molto banalizzato nella catechesi no? Comunque è staccato cioè ci sta il padre e il figlio poi c'è lo Spirito Santo lo Spirito Santo tipo i doni dello Spirito Santo però non si capisce bene che cosa c'entri con tutto il resto no? Mentre Dio ci hai fatto vedere appunto che è essenziale lo Spirito no? Ma perché anche certamente c'è anche una questione storica no? Ma tu come la vedi questa dimenticanza dello Spirito e anche questa assenza nella nostra catechesi per cui di Gesù è molto facile parlare di Dio più o meno dello Spirito Santo diventa una rarità Dico se dovessi ecco cercare di mettere in fila tre cose no? Secondo me una delle radici di tutto è un impoverimento della teologia soprattutto in Occidente dovuta che risale un po' all'arianesimo quando gli ariani mettono in dubbio la divinità del figlio come reazione si afferma la piena divinità del figlio ma ancora di più la perfetta uguaglianza del padre al figlio di tutte e tre le persone e si va a perdere l'ordine tra le persone perché tutto ciò che è ordine nella vita divina sembra subordinazione e quindi si capisce il motivo che è valido che contro la subordinazione ariana e tutte le sue varianti affermiamo l'uguaglianza delle tre di persone divine ma allora non diciamo più gloria al padre per mezzo del figlio nello Spirito Santo ma al padre al figlio allo Spirito Santo è come se fossero interscambiabili primo passo secondo passo perché si è incarnato Gesù diciamo si viene detto si è incarnato solo per redimerci dal peccato quindi una concentrazione amartiologica cioè legata amarti amarti a peccato no una chiave amartiologica della missione di Cristo per questo ha dato la vita per noi è morto in croce per noi per i nostri peccati e perdendo quell'altro aspetto che è originario che comporta a compimento i disegni del padre e per il quale invece il ruolo dello Spirito Santo è molto più significativo se la rilevanza di Cristo è semplicemente il perdono il rapporto con la storia del peccato e non anche primariamente il compimento dei disegni di Dio si perde il senso delle relazioni trinitarie nell'intervento nella storia che sono invece legate al compimento della storia di salvezza e così anche il ruolo dello Spirito Santo che è legato alla vita cristiana la vita dello Spirito passa un po' in sordina diventa un po' assente insomma recuperando come si è fatto grazie al rinnovamento teologico del 1900 anche precedente tutto il rinnovamento che ha portato al Concilio Vaticano II recuperando questa visione più piena della salvezza che non è solo salvezza dal peccato ma salvezza e anche pienezza di vita salus salute è pienezza di vita la salvezza recuperando questo aspetto il ruolo dello Spirito come abbiamo spiegato la volta scorsa che abbiamo visto fortemente la centralità dello Spirito in Cristo e nella partecipazione a noi della vita di Cristo non in chiave martiologica ma in chiave di compimento dei disegni di Dio ecco quindi secondo me storicamente questa potrebbe essere una delle ragioni per cui lo Spirito Santo passa un po' in è un po' un assente nella catechesi quindi questa tendenza marciocentrica centrata tutta sulla redenzione dal peccato che è vera e che è fondamentale che è importantissima che non possiamo abbandonare perché se no tradiamo la rivelazione non cogliamo la pienezza della salvezza di Cristo questo è vero ma sempre all'interno di un quadro che va oltre il peccato da tutte e due le parti in principio e in fine in questo quadro più grande tutta la Trinità e l'ordine Trinitario risplende ecco ti volevo chiedere anche se potevi ripetere quella sintesi che avevi fatto al principio dicendo il kerigma dello spirito cioè l'annuncio dello spirito riassunto in poche parole no? l'hai fatto al principio hai detto se provi a ripeterle a ripeterle tutte no? per dire lo ripeto piano piano perché è molto complesso nel senso che ci sono tanti aspetti sì perché è un po' una sintesi anche degli incontri fatti sì allora dicevo così che si può dire che il kerigma dello spirito santo è l'annuncio dell'amore di Dio che ci è donato quindi questo amore tra il padre e il figlio che ci è donato l'amore di Dio che ci è donato e ci rende partecipi della vita di Dio liberandoci dal male quindi questo aspetto negativo rispetto al male e portando a compimento la nostra filiazione divina configurandoci al figlio eterno secondo i benevoli disegni del padre quindi vediamo questi due versanti la liberazione dal male compimento del bene che è un inserimento diciamo il dono dell'amore di Dio compiuto in Cristo e donatoci gratuitamente nello spirito santo qualcuno chiede qual è la differenza del kerigma del padre del figlio e dello spirito santo è chiaro penso sia anche apparso che c'è un legame sono inseparabili nel loro essere nel loro agire e quindi anche l'annuncio in qualche modo l'uno rimanda all'altro la volta scorsa abbiamo parlato tantissimo dello spirito oggi abbiamo parlato tantissimo di Gesù Cristo parlando del padre abbiamo parlato del figlio e così però forse si può differenziare qualche cosa il padre è proprio l'annuncio dell'amore fontale l'amore in cui siamo pensati in cui esistiamo che è la nostra origine e la nostra fine il figlio è la vicinanza di questo questo amore che si è concretizzato che ha ha preso i nostri peccati il figlio ha pagato i nostri peccati cioè che ha che ci ha amato ci ha manifestato l'amore del padre l'espressione dell'amore del padre per noi nel peccato e nei disegni benevoli di Dio e lo spirito santo è la vita la realizzazione di questo in noi è l'annuncio della realizzazione di questo in noi quindi principio e fine il mediatore in cui Dio ci ha pensato e poi la realizzazione di questo disegno di Dio in Cristo che è portato avanti dello spirito santo ci è donato quindi c'è ecco c'è un questo tipo di ordine perché lo spirito non poteva essere inviato ai discepoli se prima Gesù non saliva al cielo allora ha detto che questo si può spiegare in questo rapporto tra il compimento del dell'amore tra il padre e il figlio nella storia e il dono dello spirito che è proprio l'amore tra il padre e il figlio che passa la storia entra nella storia e se già c'è un invio dello spirito sulla croce e dal Cristo risorto che alita ma il pieno compimento si ha quando si ha la piena glorificazione del figlio incarnato e quello si ha con l'ascensione allora il padre quella frase del padre l'ho glorificato e ancora lo glorificherò a cosa si riferisce una delle possibili applicazioni è proprio la glorificazione della croce che poi la glorificazione della risurrezione e infine la glorificazione presso di lui nella gloria del padre con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse torna in quella gloria con l'umanità quindi l'umanità è parteci diventa partecipe di quell'amore tra il padre e il figlio e allora dall'umanità glorificata di Cristo si riversa nel mondo si sprigiona l'amore di Dio pienezza dell'amore di Dio e dello Spirito Santo nel mondo poi è chiaro che anche prima c'era presenza dello Spirito Dio Gesù dava lo Spirito ecco perché ci sono vari tipi di presenza però la presenza personale la persona dello Spirito legata a Cristo bene ringraziamo davvero con tutto il cuore Don Davide perché in queste tre serate ma se calcoliamo il tempo in pochissimo tempo ci ha portato sulla soglia e ci ha fatto approfondire un mistero che è un mistero grande che è il mistero d'amore con cui Dio si manifesta nella nostra vita e ci ha fatto assaporare l'identità del nostro Dio nell'essere per noi Padre Figlio e il dono dello Spirito Santo che veramente ci apre al cuore di Dio e allora veramente lo ringraziamo e anche un po' tutti i grazie che ci sono nella chat e qualcuno scriveva adesso dobbiamo interiorizzare perché il nostro annuncio possa avere qualche cosa di più forte a cui si appoggia ecco allora veramente non perdiamo questa occasione quando abbiamo ascoltato in questi giorni è per noi qualche cosa su cui ritornare e far parlare prima le nostre vite perché poi con la nostra vita possiamo parlare alle persone alle quali siamo stati affidati ci sono stati affidati ecco continuo ancora qualche domanda poi la recuperiamo e cercheremo di dare risposta nei prossimi incontri con Don Davide con questa sera abbiamo concluso l'approfondimento di questo aspetto del Kerigma i prossimi due incontri giovedì prossimo e ancora l'altro approfondiremo la parte più sociale del Kerigma e poi avremo ancora un'altra persona che ci parlerà per cui poi non vi teniamo ancora un po' sospesi fino a giovedì prossimo e inizieremo poi l'incontro di giovedì prossimo ancora grazie Don Davide e concludiamo con una preghiera che ci sembra veramente possa farci ritornare anche nel con la preghiera col cuore rivolto al Signore a quanto abbiamo ascoltato in questi giorni mi sa che non l'ho messo aspetta la recupero tranquillo se no posso anche leggerla io senza proiettarla o spirito paraclito uno col padre e il figlio discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori voce e mente si accordino nel ritmo della lode al tuo fuoco ci unisca un'anima sola o luce di sapienza rivelaci il mistero del Dio trino e unico fonte di eterno amore gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen e concludiamo nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo allora ancora grazie Don Davide buona serata a tutti e ci vediamo giovedì prossimo ciao a tutti ci vediamo giovedì grazie Don Davide grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti